Figaro qua, Figaro là, Gioacchino Rossini. Tutti lo ammireranno e lo vorranno ascoltare, compresa la principessa di Galles, Carolina di Brunswick, che gli farà la corte invitandolo a cena. Carolina alloggiava in Villa Caprile sul Colle San Bartolo, guardate che villetta. Sta duchessa aveva invitato Rossini in questa tenuta fighissima, ma Gioacchino declina l'invito, dicendo per giunta che siccome aveva mal di schiena non sarebbe riuscito a inchinarsi in sua presenza. Che sigma! La duchessa, nonché futura pretendente regina d'Inghilterra, non l'ha prese benissimo. Si pensa che quando Gioacchino portò a Pesaro la gazzaladra, non un uccello è il nome di una sua opera, pagò un gruppo di ragazzi per fischiare e lanciare uova marce. Rossini dovette scappare dal retro, ma i pesaresi lo difesero e Carolina non fu più ben voluta in città. Non si scherza col Ross, guardate questa inedita immagine di lui con i baffi. Che sigma! Grazie a tutti!